La salute non è una merce e ancora manovra contro mano, muore travolto il Servizio Sanitario Nazionale. Sono alcuni degli slogan dello sciopero di 24 ore proclamato da Aori, Emac, FASID, FVM, Federazione Veterinari e Medici e CISL Medici. Uno sciopero indispensabile per dare un messaggio chiaro alla politica di governo, dicono i sindacati. Il servizio sanitario ha bisogno di aiuto, la legge di bilancio non aiuta affatto, continuano. Lo sciopero è l'estrema razio a cui ricorrere per reclamare il diritto alla salute garantito dal personale pubblico. Nella marca adesione attorno al 35%, con un'alta percentuale tra gli anestesisti. La mobilitazione ha avuto ovviamente ripercussioni sugli ospedali, soprattutto per quanto riguarda l'attività chirurgica programmata. Lo sciopero di oggi ha avuto un impatto importante perché sostanzialmente sono saltate 18-20 sedute operatorie e chiaramente tranquillizziamo i cittadini perché verranno ovviamente riprese e il cittadino che doveva fare intervento oggi verrà sicuramente richiamato per fare intervento nel giro di poco tempo di questi giorni e comunque abbiamo avuto un'adesione maggiore da quello che vedo rispetto al sciopero precedente. Grazie a tutti.